Per Lucim quest'anno un modo alternativo di celebrare la festa della donna? Sì, abbiamo inserito infatti questo incontro, lo chiamiamo un incontro culturale, proprio all'interno della missione che stiamo facendo, all'interno della diocesi, la missione popolare Campobello ma in tutti i comuni della diocesi di Agrigento, quindi la missione agli ammalati, alle famiglie e ai giovani. Quindi questa è un'occasione importante per parlare della donna missionaria. Avendo, tenendo come punto di riferimento, Maria. Certo, Maria è modello, modello di vita. Maria è la donna mite, la donna umile, la donna che tiene in mano la famiglia, perché la donna deve essere così, intanto la donna che sorride, che accoglie a braccia aperte la famiglia, i figli, il marito, poi per un educatore che insegna, ma educatore anche come, non mi riferisco solo all'insegnante, ma anche al catechista, ai missionari che stanno lavorando in questo periodo, ai genitori. Ecco, devono tenere presente che i figli hanno bisogno di amore, di affetto e di un sorriso, perché il sorriso aiuta molto i bambini. Dove non c'è una donna che non sorride ai piccoli, veramente i figli crescono con problemi. E guardare Maria come donna. La donna ha un ruolo importante nella vita del mondo, e oggi le donne stanno occupando spazio molto interessante, e stanno aiutando a vedere il mondo anche con gli occhi femminili. E questo è importante. Maria può diventare un modello per tutti, perché è stata una donna che ha dovuto affrontare la vita con le sue difficoltà, ha dovuto vivere la fedeltà al posto che aveva, e ha saputo contribuire nel suo piccolo, che poi piccolo non è, a realizzare il progetto che Dio ha per gli uomini. Solo un punto di riferimento religioso o anche un modello per i laici? Ma se un laico volesse guardare a Maria come modello, credo che troverebbe tanti elementi per poter leggere la sua vita con interesse. E poi dietro Maria c'è anche l'esempio, e oggi la parrocchia è quella propria di San Giuseppe, che travaglio interiore ha vissuto quell'uomo, quell'epoca? Noi abbiamo considerato sempre Giuseppe come un uomo di serie B, messo di lato e quasi nascosta. È un uomo che ha avuto del fegato e del coraggio, perché dover assumere il ruolo che gli è stato affidato, che è da protagonista e non è da comparsa, e doverlo vivere nelle difficoltà della vita di ogni giorno, accettare Maria incinta, dover scappare, riprendere il lavoro, custodire Gesù. Anche lui è da guardare, ammirare e possibilmente anche imitare.